Le previsioni meteo di mercoledì 6 settembre. Al nord è piogge, locali temporali più probabili sulla Liguria di Levante e localmente lungo i rilievi alpini e sulle prealpi Venete e Lombarde. Al centro temporali sull'alta Toscana con fenomeni localmente intensi. Al sud è cielo sereno o al poco più nuvoloso, venti deboli da sud sud ovest, mari quasi calmi o poco mossi, temperatura stazionaria.